Benvenute e benvenuti al nuovo corso di laurea triennale attivato presso la sede di Biella Città Studi. All'interno di questo percorso scoprirete che cos'è la chimica e in quali contesti ritrovarla. Ma quali sono gli obiettivi formativi per il corso di laurea in chimica per la manifattura sostenibile? Sviluppare competenze strategiche in campo chimico con una solida formazione di base, formare chimici nel settore manifatturiero e creare un percorso di tirocinio che possa favorire l'integrazione con il mondo del lavoro. Il corso intende coniugare la formazione scientifica con lo sviluppo sostenibile, evidenziando la sostenibilità ambientale ed economica dei materiali, dei prodotti e dei processi chimici. Grande importanza è data agli insegnamenti collaboratorio, 11 in 3 anni, così come i corsi tenuti dai docenti provenienti da realtà produttive. Al conseguimento della laurea triennale in chimica per la manifattura sostenibile, si potrà accedere direttamente alle lauree magistrali collegate alla classe L27, oppure al mondo del lavoro con la possibilità di iscriversi all'albo dei chimici junior. Inoltre, il corso di laurea permette di accedere a tutte le lauree magistrali in chimica e material science, attivate a Torino, così come percorsi magistrali a carattere biotecnologico. Tra gli sbocchi occupazionali abbiamo l'industria manifatturiera e l'industria chimica e high-tech. Il corso di laurea in chimica per la manifattura sostenibile è accesso libero e prevede il superamento del test online per l'area di scienze. Vi ringraziamo per l'attenzione e scansionate il QR code per maggiori informazioni. Grazie a tutti!